Passiamo là, è l'ultimo intervento, non è l'ultimo perché poi sono un intervento, però mio l'anno poco, non è tempo sui due minuti, quindi il vero grosso intervento l'ultimo è questo, perché solo sei mesi fa, scusate, ci siamo quasi, solo sei mesi fa mi è capitato di scrivere un fatto di cronaca, cioè c'era una, una commerciante, una gara, deceduta per, molto probabilmente, perché aveva sennò 50 anni, per questo partigerato di un esotelioma pleurico, il PM di ancora, nel caso di un altro malestato, come atto dovuto ordinò una lusia, come si fa in questi casi, ma era una persona che, con la metà di un esotelioma pleurico, dove fosse stato trovato, rispondato, mappato all'amianto, faceva la parrucchiera e... Primavolto a comprare un esotelioma pleurico. Io partirei con una domanda, dottore, si muore ancora l'amianto e che rapporto c'è fra l'amianto e il mesotelioma pleurico? Grazie, grazie per l'invito, grazie a voi tutti che siete ancora qui nonostante l'ora. Prima di rispondere però a questa domanda permettetevi rapidamente di fare una paramanica su quello che è il rapporto fra agenti inquinanti e danni alla salute. Poi sempre molto rapidamente faremo il spunto sull'amianto e che l'ambiente sia profondamente cambiato ormai sotto gli occhi di tutti. Gli ultimi 50-60 anni sono stati caratterizzati da un'eccezionale stanzione delle attività industriali e non approfondano la formazione di quegli agricoli. E inoltre la progressiva globalizzazione ha poi portato ad un modello di sviluppo basato su cicli di vita sempre più belli dei manufatti come un conseguente inesorabile crescita sia del fabbisoglio di energia ma anche del materiale prima che ha portato a una produzione di scarti e di rifiuti. Tutto ciò ha comportato una presenza sempre più massiccia di molecole strane agli ecosistemi biologici spesso dotati di attività cancerogica. Cosa ha sostegno di questo? Abbiamo alcune prove. La prima è che l'incidenza complessiva del cancro è in crescita in tutto il mondo. Si stima che dal 1990 essa sia cresciuta del 19% con un incremento che riguarda soprattutto i paesi in via di sviluppo. A questa prima affermazione si può fare subito una contestazione ma è certo che il cancro è aumentato. È aumentato tanto l'età media. È vero perché il cancro come altre malattie generative tipiche dell'impecchiamento dell'italizzato. Però gli studi che dimostrano sull'incidenza dimostrano che i tassi standardizzati per l'età, cioè l'incidenza depurata dal fattore di invecchiamento, negli ultimi 20 anni sono complessivamente cresciute in tutta Europa. qui in Europa, perché si vede, ma vale per fare i paesi industrializzati. In Italia l'incidenza dei tumori nel loro colpulesso è cresciuta sia tra gli occhi e tra gli occhi. Una prova abbastanza significativa dell'impatto che l'ambiente ha sullo sviluppo dei tumori e l'aumento dell'incidenza di cancro anche tra adolescenti e bambini dove ovviamente il fattorettato non c'entra. non c'entra anche gli stili di vita, perché è troppo breve il tempo per avere un impatto, un danno da uno stile di vita alterare o non adeguato. È vero che questi ultimi vent'anni sono migliorati molto i sistemi di diagnosi, per cui si fanno più diagnosi di quello che si faceva tanto fa. Però questo è un vento che ha un peso notevole. In Italia, infatti, nel periodo che va dal 1988 al 2002, nell'età che va da 0 a 14 anni, si è registrato un aumento meno, un aumento di insolenza per tutti i tumori, del 2% di questa parte d'età, che oltretutto è totalmente superiore a quella che è la media europea del 1,1%. Nei primi 12 mesi di vita l'incidenza anima è addirittura del 3,2%. Questo dimostra anche che questi agenti ambientali agiscono anche durante la gestazione. Per cui noi possiamo fare questa affermazione, l'inquiamento ambientale, connesso con le attività umane, aumenta il rischio proprio. Questo è supportante, questa affermazione, da una numerosissima presenza di literature, di pubblicazioni presenti nella literature scientifica che dimostra anche questo. Questo problema sta a cuore, per cui le pubblicazioni sono numerosissime. Vi porto solo il risultato presentato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a un recentissimo convegno avvenuto a Ginevra il 26 maggio scorso, che era l'Assemblea Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità porta questi dati. Ogni anno, 3,7 milioni di persone muoiono nel riquidamento atmosferico. Altri 4,3 milioni di morti sono causati dall'esposizione ai riquidanti interni alle abitazioni e ai luoghi di lavoro. Il costo del riquidamento atmosferico per l'Europa sta addirittura 23 milioni di euro all'anno. Vediamo rapidamente quali sono i cancerologi ambientali principali. Si dividono principalmente in tre categorie, biologici, fisici e chimici. I biologici, ovviamente, maggiormente sono i virus, non sono dovuti all'attività umana, però vengono raggruppati dagli carcerogeni ambientali, perché prima di tutto sono presenti nell'ambiente, ma poi spesso sono dei co-carcerogeni, cioè facilitano le azioni di sostanze chimiche, ad esempio. I casi più importanti sono il virus del Epstein-Barr virus, che è un banale virus della monocleose, ma in alcune aree dell'Africa e dell'Asia sudorientale è enterico e produce dei tumori del naso e delle linfomi. Poi c'è il partigerato HMV, il virus dell'AIDS, che oltre a causare l'AIDS, sempre nelle zone enteriche causa anche sarcoma di carcosi e linfomi. L'HPV, adesso molto conosciuto, cioè il papillomavirus, perché è responsabile di ormai accertare il tumore della cerveza interina, della donna. Tanto che è nata una campagna di vaccinazione anche nel nostro paese per le ragazzine che dai 12-13 anni vanno vaccinati proprio per prevenire questa infezione. Io le dico parte del filore, non è un virus, è un batterio che all'erga nello stomaco, causa spesso di rungera, ma se presente per vari piani può trasformarsi in un cacolo dello stomaco. Gli agenti fisici, in primis le radiazioni, le radiazioni sia per discariche abusive, ma sia anche per incidenti ucreali, come quello che dice lui, e qui parliamo di sostanze radioattive tipo il cesio, tipo lo iodo 131, che permanono nell'ambiente anche per trent'anni. Alcune hanno un tetto di dimensione lunghissimo, ma anche dal sole, dagli acido carrioletti vengono danni, perché per la pelle, che se non bene gestiti come esposizione al sole, pelle si intende più periore, ma soprattutto molto più grave dell'anoma. E poi di attualità assoluta è solo i carri elettromagnetici, per cui si intende tante leperature, ma ancora molto contrastante, per soprattutto i viziati per il tumore al cervello e per la cemina. E veniamo agli agenti chimici, quelli ovviamente più numerosi, e qui parliamo del particolato fine, cioè delle famigerate polveri sottili, di M10 e di M2 e mezzo, che sono particolarmente presenti nei nostri centri abitati. E riferimento alla riunione, all'assemblea di Ginevra, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio fatto una risoluzione per tutti i governi, che si impegna rapidamente ad abbassare il pirametto atmosferico, agendo soprattutto su due obiettivi, le centrali termoelettriche a carbone e i motori diesel, che dopo tanti anni che ci hanno fatto a comprare, so copie che sono un maggior produttore del particolato fine. E poi invece la bianco, di cui diremo due parole più in dettaglio, il tipico tumore della bianco è l'esotedioma, non è l'unico, ma è quello che con maggior frequenza produce. Con i coloranti azolici, cioè la ferma riuscita, il benzene dei derivati per l'ergemia elettronica, i metalli, il rovo, il fiocco mercurio, il polvone, il vescica, l'alto di origine, diossine, linfobie, il polvone, il pesticidi, il cloruro di vinile per tanti anni a base delle plastiche, dei tumori alfegati. Ecco, quali sono le principali caratteristiche dell'inquinamento ambientale? La molticità e variabilità degli agenti. Nell'ambiente si presentano tante sostanze differenti che possono, tra di loro, avere un'interazione, una sinergia e sono anche agenti di diversa natura. Questo, vedremo poi, complica parete la situazione sanitaria. la persistenza e l'uniqualità degli inquinanti. Questo è un altro fatto molto importante, perché un inquinamento può avvenire in una zona, ma può essere trasportato molto, molto lontano. E poi, questi inquinanti che vengono, succescono via alcuno nei tessuti animali e dell'uomo anche, soprattutto nel tessuto grasso, nel tessuto confuso, quando entrano dal suolo attraverso la catena di interna. di interna. Ecco, se in laboratorio ci identificano le sostanze inquinanti, il meccanismo di azione, la dose tossica e anche il tessuto di latenza, sono però gli studi epidemiologici, cioè quelli condotti sulle popolazioni e su campioni di popolazioni, considerate sposte, che le hanno seguiti per parecchi anni. E questi solo possono stabilire il rapporto causa-effetto, ma è il punto più critico di tutto il mio argomento, perché è difficilissimo stabilire sempre una causa-effetto tra quella malattia e l'uniqualità. Pericolini che, soprattutto, ho accennato prima, per la presenza massiccia di diversi inquinanti, per il fatto che una stessa malattia, tipo prendiamo un esempio, il rumore del polmone, non è solo un rumore da inquinanti, ma anche ha abitudini collettuali. Come è tutto, è molto difficile capire se quel rumore proviene dall'inquinante o dall'uniqualità. Un grosso studio italiano, questo lo raccendo subito, solo rapidamente, è un studio epidemiologico sponsorizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, che analizza e segue le popolazioni in zone che presentano un quadro di contravenzione ambientale riconosciuto come SIN, interesse nazionale per la politica, i cosiddetti SIN. Questo penso che ci andiamo qui nella presentazione del gruppo, è stato un po' più di meno. Però anche questo studio, che quindi è considerato dall'Unione Europea come un studio di riferimento, alla fine del gruppo di stessi attori che non serve che si può fare una relazione stretta per la carta del tempo. Molto spesso sono impossibili ritenziare le situazioni sanitarie che vanno poi effettivamente a profondire. Veniamo, veniamo rapidamente all'amianto. L'amianto è il termine commerciale che viene applicato all'inizione di minerali nel gruppo di silicati di natura fibrosa, che hanno la caratteristica di separarsi in fibre sottili. Questa è la caratteristica di questa sostanza che poi è il motivo dei danni che sta producendo. per le caratteristiche grenzi che è stato usato in parecchi, nell'industria navale, nelle ferorie e così via. La pericolosità di questa sostanza, infatti, non sta tanto nella sua composizione chimica, quando nella sua conformazione fisica microquine, con dimensioni superiori a 0,5 micro, che vengono in arte e raggiungono i voluti finali al resto. È un killer silenzioso. Qui è circa 3.000 litri di ogni anno nel nostro paese, che muoiono per il nostro paese per il nostro paese. Qui poi risponderò meglio alla domanda del moderatore. e anche per gli altri tumori adesso correlato, che però sono in un percentuale un po' più basso, come il tumore del vermone, il tumore classico del vermone, il mesodiglione del peritoneo, perché non solo la preola, ma anche il peritoneo, per quanto riguarda i principi addominati del podere colpito, e il tumore dell'oparico e dell'amianza. In Italia nel 1992 è stato dichiarato fuori legge. Nel 1993 è stata dettata ogni attività di estrazione, commercio, importazione e produzione di amianza. Ma, purtroppo, ancora siamo pieni di amianza. E non è più una malattia da esplosizione professionale. Il caso riferito dal moderatore è il senso. Ma è ormai una malattia da inclinamento ambientale. perché i manufatti, che sono stati fatti tanti anni fa, vanno contro un deterioramento e le fibre fuoriescono, dove hanno spappagliato tutto l'ambiente. Dove c'è un rapporto con l'occupazione causa-effetto, un rapporto sempre c'è trovato. Ma, per esempio, i mori umani, i mori degli esposti, perché accudivano alle tute dell'amore. Però, a volte, la sorgente di pancre, è disimile, perché è pieno di nostri edifici, le nostre case, sia private che edifici pubbliche. Ancora. Questo lo sapete meglio di lì. Ma devono essere unificati. Ancora. 35.500 assassini. 1.957 sono quindi già unificati. 571 sono quindi parzialmente unificati. Questi sono i dati del novembre 2014, in cui è abbastanza recente, rilasciata al Ministero della Sanità. Se è stato previsto, per la quantità di amianti oppure presente, che sono riviste ancora circa 85 anni per completare lo smattimento. Per concludere, una domanda che penso venga spontanea a tutti. Ma allora, se l'efficacia della prevenzione primaria, è così tanto dell'efficacia che è pubblicizzata, per esempio, per abbattere il tumore del bormone, lo rufa al fumo, dove ormai la porta è detto, dove smette di fumare e dire abbattere questo bifo di tumore. Ma allora, perché non viene applicato lo stesso criterio e col medesimo impegno nel ridurre drasticamente i tanti agenti cancerogeni non presenti nel nostro ambito? Basterebbe almeno più certi. A questa domanda ho trovato una frase di Tara Davis, che è una famosa epidemiologa statunitense, che ha lavorato a più di 40 anni, occupandosi proprio di inquinamento ambientale e danni alla salute. E lei dice, ogni qualvolta si solleva una questione di salute pubblica che ha repercussioni per miliardi di dovere sulle grandi industrie, l'onere della prova imposto a chi esami dei rischi può diventare tanto elevato da risultare insostenibile. Vi ringrazio molto per la vista.